E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, devastate di like, condividete questo video con tutti i tifosi viola e non che conoscete, guardatevi video fatti in precedenza, poi per abbonati base quest'oggi vi dropperò anche video analisi, pronosti e assistenza fante calci per la prossima giornata di serie. Allora video calciomarcato, videace di calciomarcato, bodeace, bodeace calciomarcato, hashtag bodeace calciomarcato nei commenti, perché ieri sono stato ospite su Radio Firenze Viola, che saluto e ringrazio, ed è periodo, sì, perché sembra di no, però ci stiamo avvicinando anche a quella che sarà la finestra di calciomarcato di gennaio. Le trattative si impostano anche adesso, i bisogni, le occasioni, le situazioni, si vanno anche a ragionare e a cablare di questi tempi per poi arrivare pronti alla finestra invernale. Si sta iniziando a parlare di calciomarcato, l'abbiamo fatto ieri, magari ne farò anche su questo video qua, ci farò un articolo su fiorentina.it, vedremo. E volevo dire la mia su quello che può essere la finestra di calciomarcato di gennaio della Fiorentina, ok? Andando un po' anche ad esclusione su quello che può essere l'intervento più corretto da fare. Poi per la prossima sosta, aperta piccola parentesi, mi piacerebbe portarvi nella prossima sosta nazionale un contenuto, magari una live o qualcosa, sulla questione mostro di Firenze. Perché vi devo dire la verità, è un caso che a me appassiona molto, è una questione che a me appassiona molto e non mi dispiacerebbe portare un appuntamento a tema magari con qualche ospite, con dell'hospitage. Magari lì vedremo se farlo per tutti o per abbonati, vista la delicatezza dell'argomento, però qualcosa, abbiamo tempo un mese per pensarci. Anche voi se avete dei suggerimenti di eventuali ospiti, scrivetemelo pure nei commenti, perché è un tema che mi piacerebbe anche, visto che buona parte della platea di questo canale, credo io sia anche di quelle zone. Quindi a me il tema interessa, visto che possiamo anche parlarne assieme, come abbiamo anche già fatto, tra l'altro, però ritornare sul tema. Detto questo, torniamo alla questione calciomarcato Fiorentina. Io andrei un po' ad esclusione, se bisogna pensare a un intervento. Allora, ragioniamo sui ruoli, ruolo per ruolo. Un intervento sul centroavanti, tenderei ad escluderlo, perché la Fiorentina quest'estate è intervenuta drasticamente sul ruolo, cambiando non un interprete ma due, spendendo anche una cifra tra Zola e Beltran abbastanza considerevole. E lì, se uno, Tranzola e Beltrano tutti e due dovessero sbloccarsi e fare bene, il problema non ce l'hai neanche più. Dovessero invece, al contempo, continuare ad avere problemi, di qualsiasi sorta, io non credo comunque che la società deciderebbe di intervenire a gennaio per prendere un centroavanti. Perché sarebbe un po' difficile piazzare uno dei due, sarebbe un po' uno smentirsi, dire quasi abbiamo sbagliato a prendere il centroavanti, dobbiamo prendere uno a gennaio. Che la vedo dura, cosa che tra l'altro non si fece neanche l'anno scorso, e poi anche perché il centroavanti non è un ruolo che vai a prendere a gennaio. A gennaio nomi di centroavanti non ne reperisci, reperisci solo avanzi o scarti, quindi intervento sul centroavanti lo scarterei, ok? Sia da parte mia che credo da parte della società. Altri ruoli, trequartista, si parla di Baldanzi, si parla di un ruolo per andare a mettere un giocatore dietro la punta praticamente. Non ne vedo l'occorrenza, perché tu in quel ruolo c'hai Buonaventura, c'hai Bara che hai preso sto infantino, non mi pare onestamente un ruolo nel quale intervenire. Terzini, ne abbiamo finché si vuole. Portiere, discorso simile al centroavanti, non è un ruolo che vai a prendere a gennaio. Hai fatto questo investimento su Christensen che a mio avviso non può essere switchato in una finestra come quella di gennaio. Iniziamo ad avvicinarci ai ruoli un po' più caldi. Allora, esterno-sinistro, io qui dico siamo già in un ambito di intervento un po' più ragionevole, ma io direi di no. Non andrei a intervenire lì, perché lì la penso sempre alla stessa maniera. Cioè, direi a italiano, sei un bravissimo mister, stai facendo giocare bene la squadra, hai tanti pregi, ma sull'esterno-sinistro, ragazzi, ci abbiamo quattro potenzialmente giocatori, icone. Breccalo, Sottil, Quame. Non dico di valorizzarli tutti e quattro, ripeto, ma che puntare su uno, che ne venga fuori uno tra questi quattro, che sia possibile continuare a far giocare. Non per forza deve venire fuori un giocatore che ti fa 20 gol e 10 assist a stagione, ma che sia quantomeno funzionale e che tu possa puntare su di quello. Io non investirei sull'esterno-sinistro, chiederei a italiano di o continuare a valorizzare o valorizzare uno tra questi che già abbiamo, ok? Non interverei, perché già ne abbiamo tanti, sono anche giocatori giovani che possono aver bisogno di tempo per emergere, per venire fuori, quindi io sull'esterno-sinistro non interverei. E sul nome di Baldanzi in particolare non interverei, perché in primi se lo identifico come un trequartista, non lo prenderei a gennaio per fargli fare l'esterno-sinistro. Se devo prendere un esterno-sinistro, che non prenderei, comunque prenderei un esterno-sinistro di ruolo, e Baldanzi non lo è. Baldanzi è un trequartista, in sezione trequartisti ci abbiamo già Bonaventura, Barak e questo infantino qua. Oltretutto Baldanzi sarebbe fisicamente un altro giocatore, che non è certo un corazziere, che va ad aggiungere a una squadra che già a livello di chile e cose può pagare un po' d'azio. Quindi esterno non intervere neanche sull'esterno. Avviciniamoci ai ruoli quelli un po' più caldi. Difensore centrale? Perché c'è il discorso di Mina? Ad oggi noi giochiamo con tre centrali, sostanzialmente, da inizio stagione. Però anche qui ci sono degli equilibri che io terei in conto, perché quarta, finalmente, anche grazie forse a sta pochezza di gente che abbiamo nel reparto, sta trovando la tanta agognata continuità e qualità che abbiamo sempre voluto vedere da sto giocatore. Milenkovic non sta strabordando, però, tutto sommato, è Milenkovic, fa il suo, lo vai assolutamente a tenere a caratteristiche esperienziali, fisiche, di conoscenza del gioco e dell'ambiente che ti fanno comodo. C'è i Ranieri, che ha fatto comunque un buon inizio di stagione. È vero che c'è i Mina, infortunato, che anche quello andrà visto il decorso e tutto, però, all'occorrenza, c'è anche Comuzzo, il proletario rosso. Che anche qui non ne faccio un meme su Comuzzo. Io, quando l'ho visto giocare, Comuzzo, già da quest'estate, ma anche nei pochi scampoli che ha fatto, è un giocatore che mi è sembrato pronto, un giocatore bello anche concentrato, con un bel behavior, per esempio anche col Cucarici, una delle due gare o tutte e due potresti anche farlo giocare dall'inizio, perché dire no. Quindi, sulla carta il pacchetto centrale potrebbe essere sensibile di intervento, però anche lì hai A, degli equilibri che ti fa comodo preservare su tutti la continuità che sta avendo Quarta. B, comunque questo Mina andrà valutato, se prima o poi rientrerà, e comunque ce l'ha in rosa. C, anche quello dei difensori centrali è un reparto che, per quel che penso io, il mio pensiero, non è tanto da mercato di gennaio. È più d'estate, ti prendi il tuo giovane, lo fai crescere, lo inserisci in squadra, impara a difendere alto, sa come fare con italiano. Quindi, ma anche il difensore centrali sarei scelto. Cosa resta? Cosa resta? Resta la mediana. E quello è il ruolo nel quale io, quest'inverno, un interventino lo penserei. Sapete che io, per quel che riguarda il mercato di gennaio, sono sempre abbastanza scettico. Anche contrario, io non sono un amante del calcio del mercato di gennaio, però, stante la situazione della Fiorentina di quest'anno, un interventino a gennaio in mediano lo potresti fare. In primis, se tu dovessi trovarti in posizioni di classifica invitanti, in secondo luogo perché è un reparto che quest'estate, a mio avviso, non hai finito di costruire come dovevi, perché è andato via Amrabate ed è arrivato un giocatore che non ha quelle caratteristiche come Maxim Lopez, è anche un reparto nel quale puoi trovare delle buone occasioni per il profilo di giocatore che stiamo cercando noi, che è quasi un comprimario di lusso all'interno della nostra manovra, un coibentatore, e perché, ripeto, io un nome ce l'avrei in quel senso lì, che è quello, il mio nome, il mio nome è quello di Mauriz Kjergaard. È quello di Mauriz Kjergaard perché quando parlavamo anche di Artur quest'estate, allora intanto è un giocatore giovane, è molto giovane, è un giocatore di un metro e novanta e passa, che ti può dare quel contributo in termini di chili, di centimetri, di fisicità, che un po' ci manca, secondo me, a centrocampo. È un giocatore che è ambito anche da squadre importanti che però possono ancora non voler affondare definitivamente il colpo. Sarebbe anche un colpo prestigioso da prendere perché è un giocatore che fa la Champions, un giocatore che ha tutti i crismi di necessità e di giustizia per essere portato alla Fiorentina, giovane, con caratteristiche fisiche utili a noi, rivendibile, giocatore anche con già esperienza europea, e adesso perché è nazionale ed è anche uno che fa le coppe europee da diversi anni, non ha un costo che non sarà sicuramente basso, però neanche altissimo. Per me avrebbe un costo simile a quello che scucci quando la Fiorentina fa un colpo di medio-alto livello, sicuramente. Penso ai soldi che hai speso per Cabral, penso ai soldi che hai speso per Beltran, la cifra secondo me sarebbe quella. e se tu a gennaio ti balla qualche soldo, vuoi investire, magari ti trovi in una posizione di classifica alla quale vuoi dare corpo, vuoi andare di corpo ulteriormente in classifica, per me chi ha il guard dell'ideale. Anche perché tatticamente, secondo me, è un giocatore perfetto sommando lui tante caratteristiche di cui necessitiamo e ci farebbero comodo. Intanto è uno che data la stazza e l'essere centrocampista totale è uno che puoi affiancare ad Artur in una mediana e lui è uno che A contribuirebbe alla fase di non possesso, ok, facendo da recuperatore, da baluardo, ma anche la propensione, la velocità, la falcata, lo scatto per portarsi anche a fare il trequartista giunto con visione sulla porta, ed è un giocatore che se tu piazzi accanto ad Artur ti fa quasi A, ti può, volendo, stabilmente a tutti gli effetti, far anche tornare ad un 4-3-3 che so che a italiano piace, so che a voi piace, oppure è anche uno che puoi tranquillamente mantenere in un 4-2-3-1 e affiancandolo ad Artur è uno che ti può fare quasi il mediano fluido, il mediano fluido, il mediano fluido, ti può fare il mediano fluido perché assomma su di sé caratteristiche da giocatore utile in entrambe le fasi con la propensione per andare verso la porta. Oltretutto in situazioni di esigenza, di turnover, di bisogno, puoi anche farlo giocare se fai il 4-2-3-1 dietro la punta, come trequartista. Quindi è un giocatore che ti può far tanti ruoli, ti può far la mezzala nel 4-3-3, ti può fare il mediano barra mediano fluido nel 4-2-3-1, la bisogna ti può fare anche il trequartista nel 4-2-3-1. È un giocatore di sicuro a venire, su cui ci sono già occhi e orecchie molto importanti. Se le big non affondano il colpo, a gennaio se ti avanza qualcosa, se c'hai qualche volontà di potenza, fallo tu, sgancia tu questo investello che secondo me ti porta a casa un giocatore anche bello da vedere alla Fiorentina, ti vai a cesellare la mediana come dovevi averla, secondo me, da quest'estate, lasciando stare il discorso Maxime Lopez. Unica variabile di questo discorso qui è il futuro di Castrovilli. Perché se Castrovilli dovesse ritornare in auge, dovesse rientrare nelle rotazioni, può essere anche che torni utile Castrovilli. Perché magari anche con l'estate che ha vissuto, magari vuole riprendersi Firenze, magari sapete, questa storia di riscatto che spesso capita di giocatori che pensavi fossero sull'uscio, invece poi ti restano e fanno bene, si rilanciano. Anche Castrovilli potrebbe ricadere in un ganglo di questo tipo. Però anche lì, tutto sommato, pur se dovesse tornare Castrovilli, non è che sarebbe un crimine comunque buttare dentro nelle scelte chi ha Ergaard. Anche perché altrimenti ad oggi vedete voi che appena tu togli uno tra Duncan e Artur c'è da farsi il segno della croce. Comunque la prossima estate tra eventuale ritorno di Maxime Lopez al Sassuolo, futuro di Artur, futuro di altri, a centrocampo puoi aver bisogno di prendere più di un giocatore. Specie se continuerai a far l'Europa. Quindi tranquilli che in ogni caso l'acquisto di Kerger si può fare. Si può fare. Quindi è questo io il nome che andrei a fare per questioni di caratteristiche tecniche, di caratteristiche fisiche, di duttilità, di caratteristiche aggiunte all'undici titolare alla squadra, di solidità, anche di avvenire, di possibile plusvalenza sul giocatore, profilo di immersione di grande qualità. Quindi è questo il mio nome per gennaio. In un mercato di gennaio dove puoi avere l'interesse per intervenire, specie se le condizioni lo permetteranno, il mio nome è quello di Mauriz Kerger. Ditemi cosa ne pensate e un caro saluto.